Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il settimanale Gente ha sorpreso Francesca Chillemi insieme al noto imprenditore Eugenio Grimaldi, alimentando così i rumors sul presunto nuovo amore dell'attrice. Pare che la relazione con Stefano Rosso, padre di sua figlia Rania, sia giunta al termine. I paparazzi di Gente hanno immortalato Francesca Chillemi e il suo presunto nuovo compagno in vacanza a Capri, durante un'uscita in scooter. Nonostante abbiano cercato di nascondersi, non sono riusciti a sfuggire agli obiettivi dei fotografi. Questa è la prima foto di coppia dopo settimane di voci e pettegolezzi. Eugenio Grimaldi, 38 anni, è il rampollo di una famosa famiglia di armatori napoletani ed è stato identificato come il nuovo amore di Francesca. La storia con Stefano Rosso, iniziata nel 2015, sembra essere giunta al termine poco prima della festa del suocero, patron di un famoso brand di moda. L'uscita a Capri ha scatenato l'interesse dei media e dei fan dell'attrice, che ora si chiedono se Francesca abbia davvero voltato pagina e iniziato una nuova relazione con Eugenio Grimaldi. Resta da vedere come evolverà questa presunta storia d'amore e si confermerà.